su questo bellissimo gioco che dobbiamo farlo volare questo è esploderlo ucciderlo qui con me c'è angelo il suo migliore amico e il secondo migliore amico e mo facciamo facci iniziamo quello vuole e non lo fa esplodere aia aia fa male fa male lo so molto male per questo segno per questo stickman il piede è entrato nella gola no si è messo il piede rotte rotte madonna mille e cinquecento di soldi dobbiamo dobbiamo arrivare a otto mila e prendersi le bombe lattianti di micraft e mo è morto lo sai cosa devi fare solo tu devi devi uccidere madonna se entrava là li facciamo di un culetto così 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 grande che non potevo muovere ma che è danno infinito ma non è registrato ma che è schifo si sto registrando sto registrando il video sto registrando il culo sopra il muro vai monta vai aspetta che non si vuole che brutto si stanno pagando tutto, dobbiamo uscire il mitra che è di nuovo mi dispiace, mi sono stato proprio culo ma si è tolto il video no, non si è tolto va bene, sta lì si è tolto aspetta, no stai accendo il video aspetta che stiamo a mettere il gioco cosa sta uccidiamo con lo stick una volta per tutti col magnifico io l'ho ucciso cento e mila volte dai io clicco un gioco e ne esso un altro bravo youtube mo rimetti sicco ovviamente te lo rimetto che cavolo hai visto quello che mi respingiava là sotto si quello stai parlando con gli altri dai che cavolo avete visto quello là ti fa volare così tanto che io ho messo un migo e mi è spaccato la testa si è spiato ok di nuovo su questo dai, tra poco stiamo a 8000 si fra un mila fra un mila tutti i pugni muro muro pugno per volare pugno e muro e muro è pronto pronto e smontare no 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 vaffanculo perché perché clicco sempre cosa sta succedendo bene un euro un euro un euro puro muro muro pugno poi niente dai pugno muro e qui pugno perché li fa volare qui si pronto pronto e smontare no non devi premere quello lo so ma diciamo e smontare ecco finito devi mettere qui muro pugno 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 muro pronto e smontare facciamo una finestrucca e boom boom eeeh smetterà male per lo stickman devi morire male eeeh vediamo quanti soldi abbiamo fatto e due Ivan ti puoi prendere la nuova arma premi la tieniti là sotto sotto ok ecco no lo mettiamo tutto tieniti tutto tutto tieniti tutto tieniti tutto tieniti ok è tutto bombe è tutto bombe è tutto bombe no dai 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 no non esplosa non esplosa no perché devi fare esplodere la TNT là vicino questa TNT no ma 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 ah che male porco è ed esplosabile fusi il corredo No, perché così non mi dà i soldi. Perché cosa è correddo? Non so. Il correddo? Il reset non mi dà i soldi quando resetto. Entra, entra, ti per... Ecco. Bu! Dai, esplode. Ah, deve stare la TNT lì. Dove? Sopra la TNT, devi stare. Ahia, attento che mi fa male. Devi stare. Vedi. Mado! Ma la posso fare io? Che danni! E io vengo a trovare un porteggio migliore. Ah, è vero. Guarda, ancora. Io qui mi vado a qui. E qui mettiamo pugno. Perché? Qui mettiamo TNT, va bene? Eh già, mezzo. Qui niente. Qui pugno, quello rimbalza lì. Quello è lì, boom. Vito? Pronto. Non lo diamo. No, no, no. Oh! E' pronto! Non devi fare così. Te l'ho detto che non sai giocare. No, no, so giocare. Avevo fatto una cosa brutta per giocare. Vedi? Tu lo fai... La tocco la... Guarda qui, guarda qui. Guarda qui, la faccio un attimo. No, 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 no. Tu devi mettere, non devi mettere qui. Tu. Trita! No, no, tu fai di non esplodere. Mo fai di esplodere. Ah, ma l'ho messo il pugno. Sì, sì. Non ti ricordo? No. Sei vecchio. Mi dispiace. Danni infiniti, oh. Danni infiniti. No. A mille like faccio danni infiniti su questo gioco. Proverò ad entrare là su quelle macelle. Ok, proviamo un'altra mappa come questa. Mettiamo la bici. Mettiamo qui la... TNT. TNT. È tolta. Vaffanculo. No. Aspetta. Aspetta, aspetta. Bicicletta. Qui, TNT. Tutto qui, TNT. Boom, va. Pronto. E qui... Devi cliccare là, Ivan, otti il macello. Vai. Dai, ma non c'è poco. Mi viene ducchiando, lei. Ehi, manco re. Boom. La bici se ne è andata, vabbè. Boom, bici. Spariamo il culo. Sì, non ti credi che sta sparando il culo. Danni infiniti, dai. Danni infiniti, ma stai facendo. La freccia non colpisce da solo, in basso. La freccia non colpisce. No, perché ha solo sei colpi. Sei? Sì, ha solo sei colpi. Ti posso dire una cosa? Via! Cosa? Devi premere più velocemente, così quel nubo, questo qui, va più velocemente. Vedi? Cosa stai dicendo? Dai, dai, dai. Non spara. Sparo, sparo nel culetto. Bravo, bravo. Boom. Boom. Esatto. No, perché così non mi dai i soldi. Continuiamo così e ci vediamo dopo. Ultima. Bicicletta volante. Vola, 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 vola. Eh, non ci può. Ok. Ho spruicato i colpi. Ti può volare solo quattro volte. Ma hai tolto una gamba. Ma il piede è la gamba. Ok. L'ultimo. Sì. Il razzo. Vediamo il razzo che cos'è. Dai, Bicicletta volante. John Cena. L'Abbiceo. Ok. Sì, 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 è una gamba. Ragazzi, il video si conclude qua. E noi vi auguriamo buona giornata. Ciao, raga. Ciao, ragazzi.